Buonasera a tutti, io sono Andrea Sidoti e benvenuti a Goodnight Milano. Negli ultimi mesi si è parlato molto delle imminenti elezioni comunali e quindi anche delle primarie del centro-sinistra che si terranno il 7 febbraio. Questa sera ne parleremo con Roberto Caputo che ha portato avanti la propria candidatura fino al mancato raggiungimento delle firme necessarie. L'ha incontrato per noi la nostra Marina Bassanello. Il mancato raggiungimento della quota di firme necessarie per partecipare alle primarie ha coinciso con il ritiro della sua candidatura. In che ottica valuta questo risultato? Per me non è stata assolutamente una sconfitta, anzi è stato un successo politico. Io ho raggiunto le firme necessarie per quanto riguarda la provincia, dimostrando di avere un grande conoscenza del territorio e essere molto conosciuto nei comuni della provincia di Milano e anche a Milano siamo arrivati quasi a ridosso delle firme necessarie. Poi oltretutto, avendo frequentato le periferie milanesi, i quartieri, ho conosciuto tantissime persone, un bagaglio umano che non posso totalmente scordare, è stata un'esperienza molto importante, per cui il fatto di non avere raggiunto le firme non è per me una sconfitta, anzi devo dire che mi stimola ad andare avanti e la mia scelta oltretutto di appoggiare Sala va in questo senso. Qual è stato il suo rapporto con i media durante la campagna? Molto difficile, nel senso che i media hanno favorito esclusivamente, hanno dato molto spazio ai tre candidati maggiori e hanno praticamente quasi dimenticato sia me che un altro candidato, però devo dire che me la sono chiamata lo stesso, nel senso che mi sono rivolto alle persone e alla fine comunque anche giornale e televisione hanno avuto apprezzare questo mio sforzo e alla fine qualcosa hanno concesso. Qual è stato invece il suo rapporto con gli altri candidati? Io ho un grande rispetto di tutti i candidati, nella mia campagna elettorale delle primarie non ho mai fatto polemica con nessuno, lo trovo molto sbagliato, facciamo parte della stessa coalizione, è veramente un errore litigare tra di noi perché dopo, alla fine di queste primarie, dobbiamo stare tutti insieme e poi la campagna elettorale delle vere inizierà dopo il 7 febbraio in cui dovremmo sconfrontarci con il centro-destra. Sono candidati di alto profilo tutti, nessuno escluso, ho fatto una scelta nei confronti del Sala perché ritengo che possa essere l'uomo migliore per battere il centro-destra e forse quello più efficace e più realista nel proporre certe questioni importanti riguardo a Milano e possa poi risolverle, come ha fatto da torne con Expo. Tutti i candidati sono stati disponibili al confronto? Sì, direi di sì, nel senso che mi lega una grande amicizia a Maiorilo, per cui gli auguro anche di fare una ottima campagna elettorale, quindi anzi non c'è nessun problema, non c'è mai stata una polemica. La Balzani effettivamente la conosco molto poco perché è stato un assessore tecnico della giunta Pisapia e non ho mai avuto grandi confronti con lei, conosco invece molto meglio sia Maiorilo che Sala e conosco anche Annetta per quello che ha fatto nello sport. Cosa crede che attenda al futuro di Milano? Beh, Milano sarà una sfida importante, nel senso che non si può fermare. Milano ha avuto un grande successo con questa manifestazione di Expo, ora ci si aspetta parecchio, Milano deve trasformarsi in una grande città europea e quindi attirare tutte le risorse economiche di cui ha bisogno. Diciamo che serve qualcosa in più, una spinta in più, le periferie, avevo puntato molto sulle periferie, secondo me bisogna creare grandi progetti per le periferie milanesi, sono state un po' troppo trascurate. Io credo che Milano non possa avere una questione di essere milanocentrica, le periferie devo dire che rappresentano un grande forza anche vitale per questa città e quindi vanno assolutamente ripensate, una migliore qualità della vita in queste periferie è necessaria, credo che il compito della nuova giunta deve essere questo. Il grande escluso di queste comunali sembra essere la città metropolitana, che cosa ne pensa a riguardo? Io devo dire che essendo stato in provincia conosco molto bene la questione della città metropolitana, secondo me la legge del Rio è una legge sbagliata, è stata fatta in maniera troppo veloce, approssimativa e purtroppo ce ne stiamo accorgendo adesso. La città metropolitana adesso non è ancora nata, è ancora qualcosa che deve nascere, invece è importantissimo giocarci con questa scommessa, perché Milano non può essere solo limitata alle sue mura, ai suoi quartieri, Milano va oltre, Milano è Sesto San Giovanni, Rozzano, Cerenusco sul Naviglio, Milano arriva fino a Novara, Milano arriva a Bergamo, a Milano arrivano anche addirittura da Genova, per cui questa città deve andare oltre i suoi confini, il che vuole dire dare più servizi ai cittadini, servizi migliori, per esempio il biglietto unico, che sarebbe una questione molto importante, quindi servizi pubblici di trasporto, l'ambiente e soprattutto in questi giorni abbiamo verificato cosa vuole dire l'ambiente, non può essere solo un problema di Milano, deve riguardare tutto il territorio intorno a Milano e quindi questo dovrebbe essere proprio il compito della città metropolitana. Lei ha detto che il suo impegno non si fermerà qui, quali sono i suoi progetti per il futuro? Innanzitutto portare avanti questa campagna orale delle primarie e poi aiutare il candidato che vincerà il sindaco in tutta la sua campagna orale, devo dire che io ci terrei molto ovviamente a continuare questa mia esperienza politica, io ne ho fatta parecchie nei miei anni precedenti, ho fatto l'assessore al comuno di Milano, ho fatto il Presidente del Consiglio Provinciale, quindi è un'esperienza amministrativa devo dire molto vasta, mi piacerebbe portare quello che ho imparato in questi giorni di campagna orale nelle periferie, nei quartieri milanesi, le idee che questi uomini mi hanno dato e mi hanno proposto, portarle in Consiglio Comunale a Milano. Dottor Caputo, la ringraziamo per la disponibilità. Questo è quello che ha raccontato Roberto Caputo ai microfoni di Marina Bassanello, io vi ricordo di esprimere la vostra opinione sui nostri canali social, intanto vi saluto, vi ringrazio e vi do l'appuntamento fra due settimane con la prossima puntata di Good Night Milano.